Direttrice, innanzitutto naturalmente in bocca al lupo, come vorrebbe che fosse in questi giorni il suo salone? Quali le novità che ha voluto apportare? Le dico solo una cosa, ho sentito che ha parlato di scrittrici, poete, insomma attrazione femminile a questo salone. Sono molto emozionata e molto felice perché questo programma che abbiamo costruito in questo primo mio anno di direzione ed è un lavoro di squadra, naturalmente non è mai un lavoro solitario, è molto bello, di grande qualità e non vedo l'ora di vedere che cosa pensano le persone di tutti questi incontri che abbiamo messo insieme con grande cura. Le novità di quest'anno sono naturalmente le sezioni tematiche che ho affidato a curatori e curatrici eccellenti con grandi incontri, non solo della letteratura e naturalmente c'è uno sguardo femminile che è il mio e la volontà di celebrare le grandi donne del passato, del presente, del futuro, la volontà di illuminare questo cammino così accidentato ma così luminoso. E a proposito di donne, facendo qualche nome, Straut ovviamente, Rashdi, l'altro grande personaggio, non a proposito di donne, Rashdi, ovviamente altri nomi ce ne sono tanti, cosa possiamo dire? Partiamo proprio da questi due nomi, Straut, grande scrittrice, cerimonia di apertura, lettura e poi Rashdi, il grande ospite, non solo ovviamente per ragioni letterali. Elisabeth Straut è una mia grande passione e quindi ho immediatamente pensato a lei per la lezione inaugurale, le ho scritto una lettera, l'ho cercata e quindi sono veramente felice del fatto che lei abbia scritto appositamente per il Salone, per questa edizione del Salone, una lezione magnifica che io ho letto nella versione inglese sulla centralità della scrittura nella vita. È una lezione stupenda che non vedo l'ora di ascoltare. Salman Rashdi è non solo un grande scrittore ma un grande testimone del nostro tempo e per Torino e per il Salone è un grande onore riceverlo qui per la prima volta in Italia dopo l'attentato del 12 agosto 2022. Porta un messaggio di grande libertà, libertà di espressione, libertà di parola, porta un messaggio che è il contrario dell'odio e della paura. Senta, dovesse dire a lei un nome o un evento che ha voluto particolarmente, che come direttrice la incuriosisce particolarmente o più di uno? Beh, sono molto felice di ospitare l'incontro tra Luciana Littizzetto e Gianni Morandi spero di potergli stringere la mano e di farmi anche un selfie sulla scrittura comica di Marcello Marchesi sono curiosa di ascoltare Paolo Sorrentino a colloquio con Francesco Piccolo ma anche Valeria Golino sono desiderosa di partecipare all'incontro su Carla Lonzi che è una grande filosofa del femminismo della differenza. In conclusione mi perdoni una battuta, superare i numeri 215.000 visitatori mi pare dell'anno scorso sarà quasi impossibile perché l'anno scorso ha piovuto tutti i giorni e quindi anziché andare al mare in montagna sono venuti tutti qui. Ma lei che obiettivo ha da questo punto di vista? Cosa si aspetterebbe? Il mio obiettivo è la qualità e quindi credo di averlo già raggiunto. Poi naturalmente spero che ci sia più gente possibile, che nessuno esca da Torino e che vengano tutti al salone però sono già molto contenta così, i segnali sono molto belli.